questo è il primo video dedicato al modello ISLM in molti mi hanno chiesto di dedicare qualche video lezione a questo famoso modello che viene studiato insomma in tutti i corsi di macroeconomia e quindi adesso cominciamo con un'introduzione con la quale vi mostrerò, vedremo insieme i concetti teorici che sono la base del modello ISLM poi ci saranno altri video in cui andremo a formalizzare il modello e a vedere poi come funziona vi ricordo che prima di vedere le slide vi ricordo che potete iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e anche per sostenere la crescita dello stesso così come se il video vi è piaciuto o vi ha dato qualche informazione in questo caso sarà qualche informazione introduttiva sul modello ISLM potete lasciare un like e se avete dei dubbi o delle curiosità potete utilizzare i commenti in basso sotto il video bene quindi il modello ISLM pur essendo molto semplice dal punto di vista grafico perché come vedremo disegneremo solo due rette appunto la linea IS e la linea LM è uno strumento molto potente per comprendere gli effetti delle pulite fiscali monetarie in realtà si può comprendere anche molto altro però di solito viene usato il modello ISLM per vedere il modo in cui un cambiamento nelle politiche monetarie o un cambiamento delle politiche fiscali ha impatto sull'economia come vi dicevo poc'anzi in questo primo video spiegherò alcuni concetti indispensabili per capire meglio il modello ma mi soffermerò solo come dire su concetti teorici poi vedremo in altri video il modo in cui si costruiscono la IS e la LM e il modo in cui interagiscono all'interno del modello in primo luogo giusto per dare qualche riferimento il modello ISLM è stato elaborato da due economisti di matrice chienesiana John Hicks che ha vinto il primo Nobel nel 72 e Alvin Hansen anche se alcuni principi alla base del modello ISLM non sono propriamente chienesiani infatti possiamo dire che alcuni economisti più vicini a quelle che sono le idee di Keynes criticano il modello ISLM perché non è completamente fondato sulle idee chienesiane alcuni dicono che una specie di sintesi fra Keynes e i classi e i neoclassici quindi insomma si ispira alle idee chienesiane ma non è pienamente coerente possiamo dire per molti economisti non è pienamente coerente con le idee del famoso economista britannico però questo modello ISLM potete trovarlo facendo delle ricerche anche come modello di Hicks e Hansen quindi prende il nome anche da questi due economisti Hicks è quello come dire che l'ha formalizzato per primo e Hansen l'ha completato quindi quando trovate un riferimento al modello ISLM o al modello Hicks e Hansen sappiate che è la stessa cosa nel modello ISLM l'economia è composta da due mercati abbiamo il mercato dei beni il cui equilibrio è rappresentato dalla curva IS e il mercato della moneta il cui equilibrio è rappresentato dalla curva LM quindi nello stesso modello vengono rappresentati il mercato dei beni il mercato della moneta vengono rappresentati insieme e si va a determinare alla fine un unico equilibrio perché? perché nel modello si determinano simultaneamente i valori di equilibrio dal rendito del prodotto o del PIL se proprio vogliamo usare termini un po' più come dire comuni e del tasso di interesse quindi il modello ISLM usa ripetiamo le condizioni di equilibrio in ciascun distinto mercato per determinare contemporaneamente i valori di equilibrio del prodotto e del tasso di interesse detto in altre parole giusto per come dire per sottolineare per rafforzare ulteriormente il concetto sappiamo che la IS rappresenta graficamente l'equilibrio nel mercato dei beni mentre la LM rappresenta graficamente l'equilibrio nel mercato della moneta disegnate insieme quindi nello stesso spazio cartesiano e trovato il punto di intersezione tra ISLM possiamo determinare i valori di Y quindi del reddito e di I cioè del tasso di interesse che mettono contemporaneamente in equilibrio i due mercati quindi si va a determinare un livello di Y e un livello di I quindi un livello del reddito del prodotto di PIL e un livello del tasso di interesse che in contemporanea mettono in equilibrio il mercato dei beni e il mercato della moneta e questo punto vedremo alla fine il punto di intersezione tra la linea che rappresenta l'equilibrio nel mercato dei beni cioè la IS e la linea che rappresenta l'equilibrio nel mercato della moneta cioè la retta la linea LM per poter capire come si disegnano le curve IS e LM perché si disegnano in un determinato modo e cosa rappresentano è necessario studiare in modo approfondito l'equilibrio nel mercato della produzione quindi nel mercato dei beni e l'equilibrio nel mercato della moneta quindi non si può descrivere il mercato IS e LM semplicemente disegnando la IS e la LM e descrivendo il modello è necessario fare un passo indietro quindi capire come si arriva e perché si arriva a disegnare la IS e come si arriva e perché si arriva a disegnare la LM e dopo aver fatto questo passo indietro si può arrivare a disegnare insieme la IS e la LM e a vedere come funziona il modello quindi è necessario spiegare la teoria che sta alla base della IS e della LM prima di capire come disegnarle e prima di studiare l'interazione tra le due quindi in questo video vi ho detto in generale che cos'è il modello IS e LM vi ho detto che la IS ci mostra graficamente l'equilibrio del mercato dei beni vi ho detto che la LM ci descrive ci mostra graficamente l'equilibrio del mercato della moneta però è necessario studiare la teoria che sta alla base della IS quindi del mercato dei beni e la teoria che sta alla base della linea LM quindi del mercato della moneta prima di disegnarle quindi prima di vedere il modello IS e LM e per questo motivo come vi ho detto comincerò nei prossimi video lezioni a spiegare la teoria del mercato della moneta e la teoria del mercato dei beni per capire che cosa ci rappresentano la IS e LM e la LM senza questa teoria quindi senza questo passo indietro ritengo inutile disegnarvi subito l'equilibrio nel modello IS e LM quindi sarebbe una perdita di tempo perché non si capirebbe il perché vengono disegnati in un certo modo e che cosa rappresentano quindi questa è proprio una introduzione molto generica mi è servita giusto per darvi un riferimento agli economisti che hanno definito in modo formale questo modello quindi X e Hansen vi ho in qualche modo fatto capire che sono la IS e la LM due rette che rappresentano due equilibri diversi e vi ho detto che disegnandole insieme andremo a determinare il punto di intersezione che sarà l'equilibrio contemporaneo del mercato dei beni e del mercato della moneta prima però di arrivare a disegnare due semplici rette e a trovare la loro intersezione quindi l'equilibrio complessivo dobbiamo fare un passo indietro e già vi posso anticipare che nel prossimo video vedremo il mercato della moneta e quindi come si arriva poi a disegnare la LM poi vedremo nel terzo video il mercato della produzione quindi come si arriva a disegnare la IS e poi le vedremo insieme IS e LM con le varie interazioni con gli spostamenti della IS e della LM e quindi vedremo un po' il modello come funziona quindi per ora vi ringrazio per aver visto questo video introduttivo vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su quando verranno pubblicati i prossimi video e vi ricordo di attivare la campanella proprio a questo fine e inoltre vi ricordo che il faro dell'economia è presente anche su Facebook quindi potete iscrivervi alla pagina Facebook per avere altre informazioni più di attualità sull'economia e la finanza e quindi vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti